Sbagliato cancellare o ignorare sindacati e corpi intermedi, una stampella decisiva contro la crisi. E il monito del convegno tematico di Confartigianato, moderato dal direttore del TG Norba Enzo Magistà. Al centro del dibattito il ruolo delle categorie, in una fase in cui il governo nazionale strozza i negoziati e punta a bypassare le organizzazioni. Un errore è emerso, abolire le camere di commercio. In Puglia hanno avuto un ruolo decisivo nei confidi, le garanzie regionali sui prestiti e le imprese, con 3.311 mutui erogati. Il Censis però ha promosso il modello regionale, incentrato sulla concertazione spinta con le parti sociali. Anche adesso può dimostrare di essere una piccola locomotiva per il sud e per l'Italia, perché l'Italia è stagnante ormai più al nord che al sud. L'assessore allo sviluppo Capone ha sottolineato il ruolo chiave dell'innovazione per favorire la ripresa e le esportazioni. In chiusura il presidente nazionale di Confartigianato ha ricordato che il 98% delle imprese italiane, dati Istat e Oxe, sono medie, piccole e piccolissime, con un'incidenza molto alta delle partite IVA e da lì, ha spiegato, bisogna ripartire. Lavorare a rete, quindi concorrere, non avere un concorrente, ma qualcuno che è con me, concorrere per raggiungere un obiettivo. Quindi diamoci del noi, quel noi che non riusciamo a dare alla politica.